E' arrivata la sentenza per la morte di Sara, la ragazza di 19 anni di Sansepolcro ritrovata senza vita nel marzo 2017 all'interno di una villetta di Cisa. La ragazza era morta per overdose. Imputato di morte in conseguenza di altro reato e spaccio, un magrebino di 30 anni accusato di aver ceduto a Sara la dose di stupefacente che ne aveva provocato la morte, per il quale il pubblico ministero Angela Masiello aveva chiesto 8 anni di pena. E questa è stata la decisione del giudice che ha condannato il rito abbreviato il giovane a 6 anni per morte in conseguenza di altro reato e da 2 anni per spaccio, oltre ad una multa di 18.000 euro. Decisa anche una provvisionale di 400.000 euro per la famiglia che si era costituita a parte civile con l'avvocato Sabina Senatore, cifra probabilmente che non potrà mai essere pagata. Il trentenne era finito in carcere nel dicembre 2017 e aveva trascorso con Sara le ultime ore all'interno della villetta in Val di Chiana, dove era presente anche quello che si presume fosse il fidanzato di Sara, a tutt'oggi irreperibile.